In questo appuntamento con Unicam News, grande successo per il convegno Unicam sulla giustizia disciplinare, grande festa ad Unicam per le consegne dei diplomi ai laureati, consegnati diplomi del corso di perfezionamento in Digital Forensic, infine abbiamo parlato del ciclo di incontri Matemagie, Mathematica al Computer. Ben ritrovati a questo appuntamento con Unicam News, abbiamo sentito i titoli ma ora partiamo subito con il primo servizio. Si è svolto a Camerino il 14 e 15 settembre presso il Teatro Marchetti il convegno sul tema la giustizia disciplinare nelle professioni legali promossa dalla Scuola di Giurisprudenza di Unicam. Cosa accadrebbe se lo svolgimento di queste professioni avvenisse in modo non corretto violando codici comportamentali e regole giuridiche? Quali organi possono valutare la correttezza del comportamento dei professionisti nel settore legale? A questi e ad altri quesiti hanno cercato di dare risposte i numerosi relatori intervenuti all'incontro articolato in tre sessioni, presiedute da Luigi Rovelli, presidente della seconda sezione della Cassazione Civile, da Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense e da Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Siamo davvero contenti come scuola di specializzazione, come facoltà, ma come Ateneo perché il presidente della Repubblica, Napolitano, ha voluto onorare il convegno conferendo una medaglia speciale a questo convegno perché per il suo contenuto può essere di grande impatto sulla società civile. In questo convegno si parla infatti di uno spinoso tema. Quando il giudice sbaglia, quando un avvocato viola le regole deontologiche e comportamentali che devono governare il suo rapporto con il cliente e con il giudice, quando un notaglio commette degli illeciti disciplinari, arrecando spesso anche danni ai propri clienti che possono essere anche imprese, possono essere elementi vitali della società, come reagire? Ecco, l'Italia ha bisogno di riforme, ha bisogno di un grande intervento di riforma in questo settore. Non bastano le liberalizzazioni, ma occorre riflettere anche su questi aspetti. Ce lo chiede l'Europa, ma in generale lo dobbiamo chiedere ognuno di noi come cittadino. Grande festa all'Università di Camerino per gli oltre 200 neodottori e neodottoresse che nel pomeriggio di sabato 6 ottobre hanno partecipato alla festa del diploma, la cerimonia di consegna delle pergamene di laurea. Provenienti da tutta Italia e accompagnati da parenti e amici, i laureati hanno voluto essere presenti a questo momento di solenne festa ed hanno ricevuto la pergamena direttamente dal magnifico rettore, professor Flavio Corradini, alla presenza del prorettore vicario, professor Claudio Pettinari, del direttore generale, dottor Luigi Tapanelli e dei direttori delle sette scuole di Ateneo. Nel corso dell'evento, unica ma anche salutata ufficialmente i propri dipendenti, sia docenti che tecnici amministrativi, che hanno lasciato il servizio nel corso dell'ultimo anno. Anche per loro un momento di congedo solenne dall'Ateneo. La cerimonia è stata ufficialmente aperta dal coro universitario di Camerino che ha eseguito il Gaudiamus IGITUR. Si è tenuta nei giorni scorsi la seduta per la consegna dei diplomi del corso di perfezionamento in esperto in digital forensics, promosso dalla Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Il corso, diretto dal professor Alberto Polzonetti, è stato svolto in collaborazione con la Polizia Postale delle Comunicazioni ed ha visto la partecipazione di agenti, studenti e professionisti provenienti da diverse sedi del centro Italia. La figura professionale formata sarà in grado di coadiuvare le imprese nella salvaguardia della sicurezza dei propri sistemi informatici, ricercare la prova tecnica, analizzarla con le più avanzate tecniche informatiche e rielaborarla nel rispetto dell'impianto normativo cogente, estrarre informazioni utili da qualsiasi sistema informatico ed informativo. Le elezioni si sono svolte presso la sede Unicam di San Benedetto del Tronto per poi concludersi nella sede di Camerino. Ha preso il via lo scorso 3 ottobre il ciclo di incontri dal titolo Matemagie, Matematica al computer, promosso dalla sezione di Matematica della Scuola Unicam di Scienze e Tecnologie con il sostegno di Aclimarche e il patrocinio di vari enti e strutture regionali. Ad inaugurare il ciclo è stata Linda Pagli con una conferenza su Tutwitty, loro guadagnano. La professoressa Pagli, docente di informatica all'Università di Pisa, ha cercato di svelare i segreti matematici e informatici alla base dei più recenti sistemi di comunicazione, illustrando ad esempio come con sofisticati e veloci algoritmi si possano analizzare i messaggi sui Twitter per capire l'orientamento delle masse. Da queste analisi si possono quindi estrarre dati che hanno un grande valore commerciale, una sorta di intercettazione telefonica globale sotto le vesti innocenti di un cinguettio. Si prosegue il 10 ottobre con Gianmarco Todesco ed il seminario su automi cellulari, life, il gioco della vita. L'ultimo appuntamento è in programma per il prossimo 21 novembre con due giovani ricercatori che affronteranno il tema delle animazioni al computer basate sul calcolo numerico presentando la simulazione della vita delle formiche delle loro colonie. E con questo è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alla solita ora. E vi ricordiamo che potete trovare tutte le informazioni dell'Università di Camerino sul sito www.onicam.it. Grazie per l'attenzione, buona serata.